Ciao ragazzi, bentornati e benvenuti nella live, finalmente ci rivediamo, visto che l'ultima volta che ci eravamo visti direttamente in live in realtà era martedì scorso, poi comunque giovedì vi avevo lasciato un video, una sorta di pre-registrato, e ci ritroviamo con un mercato dai lievemente verde, comunque sicuramente non peggio di quando ci eravamo lasciati, probabilmente è uno dei pochi eventi che non finisce con il prezzo di bitcoin più basso di quando è iniziato, e tra l'altro giusto per esporvi anche un po' un parere veloce sull'evento, poi magari in realtà vorrei dedicarci giusto anche un piccolo short, insomma qualcosa per potervi dare le mie impressioni nettamente di alto livello rispetto a tanti altri eventi, uno su tutti rispetto a quello di Amsterdam, e l'ho apprezzato perché poi aveva anche la parte gratuita in italiano al di fuori, e poi quella invece per chi aveva il biglietto, tutta in inglese all'interno, e ci stavano sia gli ospiti, anche se molti erano già noti, sia quelle masterclass un pochino più tecniche, quindi veramente l'ho apprezzato, felice anche di aver salutato molti di quelli che erano presenti all'evento. Tra l'altro, parlando invece di dati, abbiamo visto come negli ultimi giorni Dogecoin stia ultrapompando, ma non è che andremo ad approfondire la cosa anche perché il motivo non è razionale, cioè il motivo è completamente folle, semplicemente speculazione sul fatto che con l'acquisizione di Twitter da parte di Elon Musk, 44 miliardi di dollari, ci possa essere una qualche integrazione di questa criptovaluta, magari all'interno del social stesso, quindi che possa diventare possibile scambiarsi criptovalute direttamente all'interno di Twitter, anche perché pare che l'obiettivo di Elon Musk sia quello di trasformare Twitter in una sorta di WeChat del mondo occidentale, sappiamo che WeChat è utilizzata per tutto, quindi a partire dalla messaggistica fino ai pagamenti. Poi personalmente non mi sono mai recato in Cina, però da vari racconti so che è così, quindi questa applicazione WeChat è veramente utilizzata per tutto e comprende anche il metodo di pagamento. Poi ieri per Halloween Elon Musk ha pubblicato un'immagine in cui c'era sto cane con il vestitino di Twitter, quindi insomma speculazione portami via, dagli 0,06 dollari del mese scorso agli 0,14 che abbiamo toccato tra ieri e oggi, più del doppio. Guardate il settimanale, 127%, quindi veramente veramente folle. Io sto seguendo il video su YouTube, Lugano Living Lab. Ah, tra l'altro ecco una cosa super interessante che qualora vogliate rivedervi qualche speech appunto dell'evento di Lugano dovrebbero essere quasi tutti su YouTube. Non ho ancora controllato, ma se non erro vengono trasmessi tutti, quindi potete appunto rivederveli in differita. Ma invece partiamo con la prima notizia che è fondamentale perché si parla di domani. Questa qui è una notizia macro, quindi che non parla del mondo unicamente crypto, ma abbiamo imparato a vedere che ormai anche il mercato crypto comunque segue le decisioni di politica monetaria mondiale e quindi americane fondamentalmente. E domani alle ore, scusate che non mi ricordo, alle ore 19, ora credo che questo qui sia già l'orario italiano, però per avere conferma magari facciamo anche questa cosa qui e vediamolo nell'orario che mi dà investing, che è invece quello italiano corretto. Quindi domani, sì, alle 19, quindi era già l'orario italiano, ok? Ora 19 di domani c'è la decisione sul rialzo dei tassi di interesse da parte della banca centrale americana. Le previsioni le possiamo vedere qui sotto, spero che le vediate, la seconda riga, questa qui. Le previsioni danno un rialzo di 75 punti base, lo potete vedere perché è l'attuale che viene segnato con... Appunto ma alle 19, sì confermo ore 19, è scritto giusto, ore 19 anche sul sito ufficiale di investing.com. Vedi che devi guardare la riga del 2 novembre, che appunto sarà domani. Di conseguenza, vi dicevo, scontano 75 punti base, visto che l'attuale sono 3.25% e il previsto sono 4 punti percentuali, quindi da 3 a 25 fino a 4, stiamo parlando di 75 punti base. Vedremo poi quello che domani effettivamente viene deciso e come il mercato reagirà. Poi non ho seguito personalmente molto la giornata di oggi, leggevo un po', poco prima di partire con la live, che il presidente Biden in realtà abbia in qualche modo auspicato a un cambiamento della politica monetaria della Fed. Poi non sono sicuramente il più esperto di macroeconomia, però uno dei motivi potrebbe essere quello che, visto che a breve ci saranno le elezioni di metà mandato e sicuramente Biden vuole conservare il suo consenso, che è invece a rischio, un mercato che continua a scendere o comunque un'economia che crolla non è di certo un buon auspicio e non fa bene per quanto riguarda il consenso della popolazione, quindi una sorta come ultima mossa disperata quello di chiedere, tra virgolette, alla Fed di cambiare politica monetaria. Detto questo, almeno da un punto di vista teorico, la Fed non ha le basi per cambiare la politica monetaria, visto che, ripeto, gli elementi che la Fed guarda sono punti che poi hanno già citato, quindi come va il mercato del lavoro, come va la disoccupazione e poi appunto l'inflazione. Siccome il mercato del lavoro e i tassi di disoccupazione appunto vanno ancora bene, cioè il mercato del lavoro va bene e la disoccupazione non è ancora così elevata e soprattutto l'inflazione è ancora molto alta, non ci sarebbero le basi per un cambiamento. Però, insomma, staremo a vedere quello che succede domani e vedremo poi come il mercato reagirà. Ovviamente se la Fed conferma le previsioni dovrebbe essere lo scenario più tranquillo. Staremo a vedere domani, ore 19, come al solito io non toccherò, cioè sapete che sicuramente non mi metterò a fare trade in speculazione a queste decisioni qui. Verso che ore dovrebbero alzarli? Verso le 19 danno proprio il comunicato, quindi se vi interessa essere time sensitive, uno dei migliori che potete stare a osservare su Twitter è dbnews. Se vi interessa proprio la precisione svizzera, cioè che volete saperlo un microsecondo dopo che lo abbiano effettivamente comunicato ufficialmente, hanno il loro canale Telegram a pagamento, però ripeto, il loro canale Telegram a pagamento ha senso solo se veramente siete delle persone che poi sfruttano quell'informazione per fare appunto dei trade sensati, perché loro in realtà poi ripubblicano tutto su Twitter, mi pare, con un ritardo di 15 secondi circa. Questo per farvi capire che quei 15 secondi di differenza ve li fanno pagare e ha senso pagarli se sfruttate le informazioni, altrimenti potete tranquillamente seguirli su Twitter che è gratis e l'informazione comunque la ottenete. Anche qui su investing.com in realtà poi la aggiornano, senza alcun problema. Invece, andando un attimo avanti, oggi è successa una cosa super super interessante per quanto riguarda Bitcoin, nello specifico Lightning Network. Saranno comunque molto rilevanti anche le dichiarazioni di Powell. Hai ragione, se non sbaglio parla proprio oggi, perché se non vado errato, grazie di avermelo ricordato, così lo andiamo a controllare, parla stasera. O ha già parlato? No, forse parla domani dopo la decisione, non mi ricordo più. Sì, forse parla domani. Facciamo che metto questa settimana, così lo vediamo tutto. Questo è ieri, questo sarebbe oggi, e questo è domani, perfetto. No, ok, beh direi che è domani. Alla conferenza stampa è dopo, perfetto. Sì, sì, parla mezz'ora post dati, infatti. 19.30, sempre di domani. Invece, volevo andare avanti con il tweet che avevo preso prima, un attimo che lo riprendo. Questo qua. Vi parlavo, è successa questa anomalia su Bitcoin, nel particolare non tanto Bitcoin in layer 1, ma Bitcoin nel layer 2, quindi stiamo parlando di Lightning Network. È successa una nuova anomalia per quanto riguarda alcune implementazioni del software di Lightning Network. Nel particolare, se vi ricordate, circa due settimane fa, proprio questo personaggio qui su Twitter, Burak, aveva pubblicato una transazione che era una transazione multifirma 998 su 999 e questa transazione multifirma aveva avuto le conseguenze di mandare in blocco alcuni client del Lightning Network, nel particolare, se non ricordo male, LND, che è l'implementazione della Lightning Labs, di Lightning Network, per quale motivo? Perché quel client sfruttava una libreria di parsing, che sono quelle librerie di, chiamiamole, letture dati, che di fatto non riusciva a leggere questa transazione troppo grande, che di fatto può esistere in teoria, ma nell'atto pratico non c'è quasi mai, lui l'ha creata ad hoc per testimoniare proprio questa presenza di errori all'interno dell'implementazione e questo aveva causato appunto ai clienti LND di bloccarsi per un periodo di tempo, fino a quando poi non è uscita la patch. Ecco, è successa un'altra cosa analoga. Sempre lui ha pubblicato un'altra transazione, adesso ve la faccio vedere, questa qui, la transazione ovviamente questo è il suo ID, ma ci interessa poco. Che cos'è questa transazione? Allora, è una transazione che contiene nel campo witness, mi pare, 500.000 o 501.000 campi vuoti. Quindi di fatta vedete che è stato proprio creata appositamente per mandare in crash il sistema. E poi un unico campo alla fine, adesso non vado giù perché, cioè, veramente dovrei scorrere un macello, stiamo qua 5 minuti. E poi, vabbè, nell'OP return ha voluto anche scrivere you will run CLN and you will be happy. CLN è un'altra implementazione, non lo vedete scusate perché ci sono io. Qui questa frase che sottolineo è quello che ha inserito nel campo OP return. CLN, vi dicevo, è un'altra implementazione del software Lightning Network, nel particolare quella Core Lightning, appunto la C sta proprio per Core Lightning Network. E se non erro è quella fatta proprio da Blockstream. Anche qui in realtà il problema l'ha avuto principalmente LND, perché sfrutta delle dipendenze da Bitcoin D, BTCD, che è un altro client per il layer 1. Anche qui il problema, se non sbaglio, sempre a livello di librerie che non riuscivano a leggere bene la transazione. Mi devo informare meglio perché non ho avuto tantissimo tempo per approfondire, magari mi piacerebbe parlarvene un pochino di più giovedì. Quindi nella live di giovedì, secondo me, sarebbe molto interessante approfondire meglio quello che è in realtà accaduto al network di Bitcoin, che come al solito non dobbiamo preoccuparci, nel senso che il layer 1 non ha alcun tipo di problemi, è tutto come prima. Il problema ce l'ha avuto il layer 2, nel particolare ce l'hanno avuto alcune implementazioni del layer 2 di Lightning Network, perché di fatto hanno dovuto attendere l'aggiornamento. A livello di sicurezza, l'unico problema che, leggendo in giro, mi pare di aver capito che poteva accadere, è un eventuale problema di possibile perdita di alcuni fondi nei canali Lightning, nel momento in cui un attaccante, andando però a collaborare con un miner, forzava la chiusura dei canali a proprio vantaggio. Però, ripeto, si tratta di un attacco veramente molto sofisticato, che comporta anche l'avere dalla propria parte un miner, quindi insomma non è facilissimo. Vi anticipo anche che questa qui era una transazione di quelle che vengono definite non-standard, e di fatto non dovrebbero essere condivise da un nodo a un nodo di default. Cioè, un nodo, quando riceve una transazione non-standard, non la invia agli altri nodi. Sapete che i nodi sono programmati, che quando ricevono una transazione, quando ricevono una transazione, subito la inviano a tutti i nodi a cui sono collegati. Questo per fare in modo che una transazione arrivi a tutti i nodi del network. Quando però una transazione è di tipo non-standard, tipo questa qui, ecco che allora i nodi di solito non la inviano. E di conseguenza questa transazione per essere arrivata all'interno di un blocco vuol dire che o lui, quindi questo, come si chiamava, questo burac, o ha collaborato con un miner, anche qui, oppure semplicemente ha avuto fortuna a incontrare nodi che comunque promulgavano e inoltravano transazioni non-standard, oppure, ripeto, molto probabilmente è più vera la prima opzione dove comunque aveva il supporto di un miner. Molti lo hanno attaccato, molti lo hanno attaccato dicendo che non è questo il modo in cui si fa reporting di vulnerabilità del software. Ci sono, appunto, procedure migliori da seguire nel caso in cui si voglia aiutare il network. Io, non so, prendo una posizione netta, nel senso che sicuramente si può comunicare meglio, senza un prodotto di dubbio, però, d'altra parte, poi, quando si guardano ai fatti, lui la possibilità ce l'aveva, il bug era presente, l'ha sfruttato. Quindi, meglio, diciamo, che questo bug sia risolto il prima possibile piuttosto che lasciarlo sempre lì. Tra l'altro, pare che questo bug fosse già noto da due settimane almeno agli sviluppatori di Lightning Labs, semplicemente che lo stavano risolvendo, non era facile risolverlo, poi, sapete, dall'esterno, quindi non essendo un insider della Lightning Labs, non possiamo sapere effettivamente se lo stavano risolvendo, ma avevano bisogno di più tempo, o se invece non era tra le loro priorità. Ok, questo non lo possiamo sapere. Tutto qui. Ad ogni modo, due volte su due è la distribuzione, diciamo, di Lightning Labs che ha dei problemi rispetto invece alla Core Lightning che mantiene, tra virgolette, per ora le sue funzionalità intatte. Poi, ripeto, hanno già patchato, vi faccio vedere che sul profilo Twitter ufficiale di Lightning Labs l'hanno proprio scritto subito attenzione a tutti gli operatori LND, che, ripeto, è il software della Lightning Labs, aggiornate alla nuova versione 0.15.4, perché? Perché siamo al corrente di un problema causato ad alcuni nodi LND che, di fatto, ha fermato la sincronizzazione dovuto a un problema con BTCD, che, ripeto, è l'implementazione del layer 1, sempre scritta in Go, così come LND, anche qui con una libreria di parsing che sono quelle che, tra virgolette, appunto, recuperano i dati leggendoli dal layer 1. Qui, nuovamente, si potrebbe aprire il dibattito è un bene che ci siano tante implementazioni diverse dello stesso software? Eh, ci sono, come al solito, due correnti di pensiero. C'è la corrente di pensiero che dice sì, è un bene che ci siano tante implementazioni diverse, perché questo ne aumenta la decentralizzazione nel momento in cui non si è dipendenti da un singolo team di sviluppo, nel momento in cui se succede un problema ad uno non per forza tutti i nodi hanno il problema. Dall'altro lato c'è il filone di chi dice è meglio in realtà avere una sola implementazione perché così si ha la certezza, o meglio, ci si concentra lo sforzo di tutti gli attori che lavorano alla sicurezza del network, ci si concentra su un'unica configurazione, un unico software, o meglio, un'unica implementazione software, e si perfeziona quella lì piuttosto che averne tante ognuna con dei problemi. E qui c'è chi ha un'opinione, c'è chi ha l'altra, ad esempio tra i grandi esponenti c'è Peter Todd che sicuramente ha una, sicuramente è per il filone di pensiero di avere una sola implementazione fatta bene. Io vi dico la verità, a me, a livello proprio puro, piace, condivido le pareri di Peter Todd, nel senso che dico oggettivamente perché avere tante implementazioni diverse e perdere il focus quando se ne può avere un'unica tra virgolette perfetta, però anche qui poi mi rendo conto che oggettivamente da un punto di vista di pura decentralizzazione è meglio averne più di una. Quindi sta un po' a ognuno decidere, ma poi alla fine ognuno è libero di sviluppare la propria implementazione di Bitcoin, sia del layer 1 che del layer 2 che dei vari layer esistenti, visto che il codice è open source e uno può scriverlo come ne ha voglia. Detto questo ripeto magari approfondiremo meglio giovedì ok, nell'altra live per capire magari che cosa che cosa è successo più nel dettaglio perché non ho avuto come vi dicevo tantissimo tempo per approfondire. Passiamo avanti e parliamo di Ethereum, nel particolare sapete che Coinbase l'exchange dopo passo la chat non vi preoccupate sapete che Coinbase è uno degli exchange che fa staking di Ethereum nel senso che consente ai propri utenti di fare staking in modo semplice senza abbandonare la piattaforma e poi si occupa di creare le infrastrutture e ovviamente trattiene delle percentuali agli utenti ecco Coinbase Cloud ha annunciato di integrare Flashbot MEV Boost ne abbiamo parlato più volte MEV Boost è quel tra virgolette quell'implementazione sviluppata open source sviluppata da Flashbot che è un'azienda e questa implementazione sostituisce o meglio una modifica un'aggiunta al software principale di Ethereum che consente a tutti i validatori di andare a ottenere i blocchi ottimizzati che contengono al loro interno già le tecniche di MEV da un mercato aperto quindi di fatto è un primo step verso l'obiettivo di Proposer and Builder Separation che come sapete è una futura proposta di modifica del via Ethereum ok arriverà la Proposer Builder Separation arriverà attualmente MEV Boost diciamo che ne è una piccola introduzione quindi non è a livello protocollare come invece vuole essere proprio Proposer Builder Separation ma è una prima è un primo step comunque ha detto che manterrà dei nodi senza l'utilizzo di MEV Boost così da avere come sempre un po' di ridondanza e soprattutto nel caso in cui MEV Boost abbia dei problemi non è che tutti i nodi di Coinbase crashano ma appunto ne hanno sempre alcuni che non lo utilizzano e ovviamente siccome adesso magari non tutti voi siete proprio sul pezzo di come funziona MEV Boost ma MEV Boost ha un'infrastruttura che è costituita da diverse parti ogni parte ha un suo tra virgolette addetto ai lavori quindi c'è il proposer che è il validatore ovvero è proprio che propone il blocco e poi ci sono tutti i builder per l'appunto che sviluppano o meglio che creano i blocchi e poi li vendono al validatore il validatore seleziona il miglior offerente ecco di fatto c'è una altra entità intermedia tra il builder e il proposer che si chiama Relayer che è proprio un ente di mezzo che prende il blocco dal builder e glielo dà al proposer ovviamente siccome di Relayer non ce ne sono tanti in realtà pare che ce ne siano circa sette sto andando a memoria lo potete controllare sul sito di Mevboost Coinbase qua dice noi siamo pronti a collaborare con dei Relayer che siano affidabili che siano corretti e quindi andranno sicuramente a stipulare degli accordi con i principali Relayer anche qui Mevboost è uno dei principali Relayer e sicuramente è quello che ne ha la Dominance anzi magari giusto per avere qualche dato in più forse era mevwatch.info proprio il sito che volevo farvi vedere sì e no non era però solo questo quello che volevo farvi vedere io ok questo qui è quello che ci dice quanta percentuale dei blocchi Mevboost è compliante alle normative OFAC ma non era quello che volevo farvi vedere io però adesso non ricordo il sito a memoria proviamo a cercarlo così su Google forse era questo mi sa proprio di sì vediamo se si carica altrimenti andiamo avanti era giusto per farvi avere qualche dato in più poi sicuramente in realtà il sito da qualche parte me lo sono salvato perfetto sì sì era questo qui anche se qui non vedo il numero di Relayer vediamo se è sotto no vabbè fa niente poco importante ad ogni modo ricordo che erano circa 7 quindi il numero è questo più o meno diciamo 2 o 3 per abbondare ma sicuramente non oltre i 10 ma questa implementazione potrebbe dare problemi con il governo se non sbaglio non sono visti molto bene lo dici dici molto correttamente in realtà il Mev è un problema per quanto riguarda la regolamentazione e sicuramente piano piano andrà andrà meglio integrato anche all'interno di quelle che saranno le leggi però devo dire la verità secondo me la regolamentazione ancora non è arrivata a regolare il Mev perché ne ha già parlato perché erano usciti degli articoli proprio contenuti anche all'interno del MICA se non sbaglio che è quella framework regolamentativo europeo che appunto vedevano il Mev come illegale dal momento in cui veniva un po' equiparato all'insider trading giusto per darci un po' di affinità con qualcosa che già esiste e quindi illegale anche se sappiamo che non è insider trading però sicuramente hai la possibilità di modificare le transazioni o comunque hai più potere rispetto a un utente normale questa è la differenza però ripeto sarà un tema che sarà toccato in futuro perché poi non credo che ancora le regolamentazioni sappiano davvero bene come funzionano i Mev credo che abbiano incominciato a capire che ci sono che dovranno affrontarli in futuro ma prima di arrivare i Mev insomma ne hanno di strada ancora secondo me ne hanno veramente parecchia invece andiamo un po' avanti vedevo novità su Arbitrum in realtà ci sono delle novità anzi visto che mi hai lanciato il nome vi faccio vedere che ha avuto il via questo protocollo Y2K che aspettate che mi collego un secondo ad Arbitrum dai forse devo aggiornare un attimo ok vi dicevo questo protocollo lo avevamo visto proprio a parole su Twitter ci avevo fatto un piccolo tweet nel dettaglio e magari ne parleremo anche qui meglio giovedì perché ho solo visto che ha lanciato proprio in questi giorni e si tratta di un protocollo che permette di proteggersi dal rischio dei peg delle stable coin al momento le stable coin supportate sono tre USDT 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 USDC e MIM quindi forse la più tra virgolette utile dalla quale proteggersi è MIM o meglio non che le altre due siano a rischio zero ma sicuramente sono a rischio inferiore piuttosto che MIM e quello che voglio capire che ancora non ho avuto il tempo di vedere bene è appunto questa sezione farming dove c'è la possibilità vedete qui di questi APR giganteschi che però non ho ancora capito bene come sono pagati e soprattutto qual è il rischio di andare a inserire la propria liquidità qui perché a primo luogo a primo impatto mi verrebbe da pensare che chi fornisce liquidità qui è colui il quale fa da controparte a chi acquista la protezione dall'altra parte quindi si è protetti fin tanto che la stable coin non perde il peg quindi ovviamente andare a dare la propria liquidità all'interno di questa farm ha il rischio che se la stable coin perde il peg non solo noi possediamo una stable coin che sta perdendo il peg ma in più in più abbiamo anche il problema che non abbiamo più le stable coin depositate perché le abbiamo fornite alla controparte però ripeto mi devo un po' leggere meglio la documentazione perché ho veramente visto solo che ha lanciato e nulla di più sempre su Arbitrum in realtà non so se avete visto che un po' di tempo fa vi avevo parlato di un sosia di GMX anzi direi un clone di GMX che era Metavolt sviluppato però su Polygon e negli ultimi giorni barra nell'ultima settimana questo Metavolt il token è schizzato con la narrativa che era banalmente vi siete persi GMX eccovi Metavolt Metavolt che credo avesse non mi ricordo come si chiamava il token ma lo cercherò così ecco era MVX MVX se non so errato giusto per farvi vedere proprio quanto è cresciuto proprio a livelli veramente clamorosi il token di questo protocollo e il motivo veramente è semplicemente che hanno sfruttato la narrativa vi siete persi GMX eccovi Metavolt ma dove è Metavolt è veramente una copia di GMX su Polygon quindi banalmente partiamo non dobbiamo andare fino ad agosto partiamo quindi dai livelli che era a ottobre quindi da 1.9 fino a 1.5 ha toccato addirittura 4.5 comunque si trova 3.5 dollari quindi quanto meno ha fatto un per due se avevate comprato a ottobre poi il protocollo in sé sapete che nel lungo termine tutti questi protocolli che hanno una funzione analoga ossia permettere il trading di futures non possono avere tutti lo stesso futuro roseo ma perché perché il protocollo funziona se c'è gente che davvero lo usa cioè pensate ad un exchange che nessuno usa può durare due mesi tre mesi ma poi nessuno più lo usa crollerà quindi lo stesso vale per tutti questi protocolli GMX dal mio punto di vista ha il vantaggio di essere stato il primo e di conseguenza è tra virgolette più sicuro però è ovvio ha una market cap più alta quindi insomma poi è già stato listato su grandi exchange però questo è qui il rischio di andare su questi protocolli più piccolini copia è sempre più alto è sempre più soprattutto adesso che insomma mega pompato a meno che su poligon non succeda qualcosa veramente di clamoroso che è da dire oh my god leggevo cosa ne pensi del mining a basso consumo come lo chiamo io con progetti tipo helium flux e streamer potrebbe essere interessante un video guarda ti dico la verità li conosco molto poco allora helium lo conosco già un po' di più nel senso che so qual è l'obiettivo di helium ma così proprio senza aver approfondito molto l'argomento ti dico che il dubbio più forte che nutro io nei confronti di progetti del genere è che l'incentivo funziona finché si viene pagati bene per farlo ma poi ha tutti gli effetti tipo helium che se non sbaglio vorrebbe costruire un'infrastruttura alla pari di internet no cioè che senso ha dal momento in cui internet già esiste perché tra l'altro creare un'infrastruttura alla pari di internet è difficilissimo perché già internet c'è e ringraziamo che esiste che copra comunque buona parte del globo creare un'infrastruttura se vogliamo più decentralizzata che abbia l'obiettivo di portare copertura in tutto il mondo non so mi sembra un po' una cosa senza senso vi dico la verità quindi non mi convince molto però ripeto non è che lo abbia approfondito in maniera veramente importante andiamo avanti vi volevo far vedere due cose o meglio una che riguarda il mondo Kronos la prima è questo aggiornamento della roadmap di Tectonic dove Tectonic se vi ricordate era quel protocollo di landing ma non tanto perché mi interessa Tectonic che è un normalissimo protocollo di landing e non tanto che mi interessa il loro roadmap che è una normalissima roadmap di un protocollo di landing bensì la cosa che mi interessa di più qui lo vedete dall'immagine questa sezione NFT staking anche sotto da qualche parte vedete qui c'è il capitoletto NFT staking allora loro non hanno non hanno rilasciato dettagli dal punto di vista di quali progetti e come funzionerà effettivamente lo staking degli NFT semplicemente dicono a partire dal 2022 ma molto probabilmente poi sarà ufficialmente live nel 2023 permetteremo appunto di avere lo staking di NFT sulla nostra piattaforma per boostare le reward in realtà per boostare le reward di X-Tonic quindi del loro token in stake non hanno ancora annunciato ripeto quali sono i progetti partner però io due diciamo antenne le ho drizzate secondo me i progetti partner potrebbero essere non troppi quindi in primo luogo potrebbero essere i VVS minor mall che sono quegli NFT di VVS oppure gli NFT di Argo perché abbiamo visto già la partnership tra questi NFT e VVS finance stesso quindi già gli Argonauts sono hanno annunciato che sarà possibile mettere le stake su VVS infatti non so se vi ricordate ma settimana scorsa vi avevo annunciato una notizia e il floor era più o meno sui 400 inizialmente poi con la notizia si era portato sui se non sbaglio 500 e adesso è sui 650 ma un altro dato che era interessante che vi dicevo di monitorare erano gli active listings perché perché vi dicevo con 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 l'NFT staking un dato da osservare è la quantità di NFT in listing sul secondary market su VVS perché se questo numero non diminuisce vuol dire che la gente comunque non è interessata allo staking e vuole venderli lo stesso se invece diminuisce vuol dire che c'è gente che li vuole comprare per metterli in staking e la gente che li compra non vuole subito rivenderli ma appunto vuole utilizzarli proprio per metterli in staking o comunque vuole utilizzarli magari qui c'è stata anche un po' di speculazione senza altro perché abbiamo parlato di da 400 a 650 di floor più di un 50% di crescita del floor però ripeto se questa notizia di Tectonic poi dovesse confermare un'altra partnership con gli Argonauts magari potrebbe arrivare un nuovo piccolo boost per queste collezioni in NFT tutto qui mi andava di darvi questa considerazione relativa a questo progetto tra l'altro poi non ho mica controllato se è già possibile metterli in staking su VVS perché vi ricordate che settimana scorsa non era possibile è già possibile è già possibile quindi immagino che tu dica è già possibile metterli in staking che fine ha fatto l'airdrop di VVS sai che non lo so ah è già possibile da ieri mettere l'istaking perfetto grazie mille grazie mille da ieri da ieri mitici non avevo fatto questo check però vuol dire che appunto era una questione di giorni l'hanno annunciato settimana scorsa e bene da ieri è disponibile anche all'atto pratico un'altra piccola news senza abbandonare l'ecosistema Cosmos quindi abbandoniamo l'ecosistema Cronos ma non l'ecosistema Cosmos è la proposal per Atom 2.0 è effettivamente arrivata vi ricordate che prima si parlava soltanto del white paper che poi sarebbe stata fatta la proposal la proposal è arrivata sta ultrapassando con 94% al momento con scusate con il 94% dei votanti a favore di questa proposal è stata leggermente anzi leggermente forse non è abbastanza è stata un po' cambiata da quanto inizialmente pensato soprattutto da un punto di vista della emissione relativa agli nuovi Atom che avrebbero introdotto in circolazione infatti l'elemento che più era stato criticato del nuovo white paper era proprio che inizialmente avevano intenzione di rilasciare 40 milioni di Atom che voleva dire veramente un'inflazione elevatissima rispetto al classico numero di Atom emessi questi Atom in realtà dovevano andare a rifillare le casse di quella che potremmo definire la Locator appunto questa entità che servirà per andare poi a fare funding dei progetti su Cosmos e il problema è che molti si erano opposti che è ok bene tutto però mi sembra un po' eccessivo e allora hanno un po' modificato i giochi qui potete trovare tra l'altro il white paper modificato The Cosmos Hub e come l'hanno modificato per spiegarvelo un attimino senza che dobbiate leggervi tutto il white paper poi ovviamente se volete approfondire è la cosa migliore che potete fare di fatto hanno deciso questo anziché emettersi da subito 40 milioni di atom ne emetteranno 4 di milioni con la possibilità in futuro di emettere altre 9 tranche da 4 milioni di atom l'una quindi per arrivare ad un complessivo numero di comunque 40 milioni di atom perché sono 4 milioni per ogni tranche ma le successive solo se effettivamente la community è d'accordo quindi prima 4 milioni e la community incomincia a vedere come l'allocator utilizza le risorse che gli vengono date poi se la community è d'accordo si potrà andare avanti di questo passo ripeto con l'obiettivo finale in realtà di arrivare ad un'emissione di 300 mila atom al mese che vorrebbe dire un'inflazione annua di circa l'1% questo perché l'obiettivo a lungo termine di questa proposal è eliminare l'APY da staking di Cosmos che deriva quindi di fatto dall'inflazione e sostituirlo con il cosiddetto real yield real yield che dovrebbe provenire da IBC che dovrebbe provenire da Interchain Security che dovrebbe provenire dall'allocator che utilizza i fondi in modo sensato e a favore della community e quindi tutto molto bello in pratica ovviamente non potremo fare altro che vedere però come i fondi verranno utilizzati c'è da dire una cosa sapete che su Cosmos la governance è onchain e qui secondo me c'è una cosa da chiarire ci sono delle whale che ragazzi il loro peso è talmente grande che potremmo anche metterci tutti noi d'accordo e votare contro la proposal di Atom 2.0 ma se queste whale votano a favore la proposta passa quindi da questo punto di vista cioè questa è una realtà nel senso adesso anche senza analizzare i dati quindi se voi sicuramente volete dire ma guarda i dati avete ragione lo sto dicendo senza guardare i dati però è oggettivo che nel mondo Cosmos ci siano alcune whale che veramente decidano praticamente l'andamento delle votazioni così come decidono dando i propri Atom in questo caso ai validatori quali sono i validatori che riescono ad entrare nell'active set e così via ok questo è proprio un dato di fatto quindi sicuramente questa proposal ripeto sta passando al 95% è molto probabile che passerà staremo a vedere poi come useranno i fondi è ovvio che è possibile non è scontato ma è possibile che comunque alla fine si arriverà ad un'emissione di questi 40 milioni di Atom però quantomeno lo faranno a bot di 4 luna 4 milioni luna e quantomeno la community ha la possibilità di vedere anche il lavoro che viene svolto quindi staremo a vedere poi sicuramente vi terrò bene aggiornati su quando passa e effettivamente quando questi Atom vengono emessi e così via bella detto questo in realtà fatemi vedere ok no ci siamo a livello di notizie fondamentali vi ho detto tutto ciò che mi interessava dirvi ci sono altre due cose anzi in realtà ce n'è solamente una di importante poi un annuncio prima vi dico un annuncio che venerdì farò una live con un famoso exchange vi ho chiesto su Instagram alcune domande interessanti da farli me ne avete fatte alcune parecchio interessanti e le ho già raccolte quindi vi ringrazio se anche voi tra cui tra i partecipanti a queste live ne avete fatta qualcuna comunque me le sono già segnate e le farò le farò direttamente venerdì quindi venerdì verso le 6 di solito non faccio la live ma ci sarà una live aggiuntiva per l'appunto in più scoprirete poi che exchange si tratta ci sarà anche qualche bonus che per chi si vede della live ovviamente avrà la possibilità di prendere in modo che insomma possa anche ringraziare per voi soprattutto voi diciamo che mi seguite sempre in live ultima cosa vi volevo far vedere questa cosa qui non potevo mancare esimermi dal farvi vedere questa piattaforma allora molto probabilmente già la conoscete nonostante questo ve la spiegherò un pochino soprattutto per chi appunto magari non l'ha mai vista allora si tratta di si chiama BitGashback e ve ne avevo già parlato ma veramente mi dovreste seguire da un bel po' di tempo quasi a inizio anno è una piattaforma che consente senza il bisogno di avere i dati degli utenti quindi i vostri dati di fare le spese che fareste magari normalmente quindi che ne so alla Conad all'UniEuro su Booking ok le spese che fareste quotidianamente online ma se passate attraverso questo sito ottenete dei cashback cashback che vi vengono visualizzati a schermo e cashback che vengono pagati in Bitcoin quindi in assoluta scarsità digitale in Bitcoin tra l'altro vi dicevo non c'è bisogno di KYC sostanzialmente solo la propria mail che sarà l'unica cosa necessaria oltre all'indirizzo Bitcoin sulla quale vi verranno accreditati Bitcoin Bitcoin che vi verranno accreditati non appena ricevete più di 10 euro in Bitcoin di cashback tra l'altro anche le commissioni della transazione sono a carico di BitCashback quindi se voi fate esempio acquisto da 1000 euro con cashback da 10% la sto sparando vuol dire che ottenete 100 euro di cashback questi 100 euro siccome sono maggiori della soglia minima che 10 subito vi verranno convertiti in Bitcoin e rilasciati al wallet che avete lasciato ora questa qui tra l'altro è stata da poco questa società diciamo è stata acquisita proprio dal buon Luca di Crypto Gateway ma perché ve ne sto parlando perché ovviamente non potevo che scillarvi il mio referral link ma per quale motivo non ve lo scillo in realtà soltanto per farvi conoscere la piattaforma ma perché penso che possa esservi veramente utile nel senso che qualunque prodotto che possiate trovare su questa piattaforma ha senso passare da qui è un modo per accumulare quei satoshi che in ogni caso magari andreste a perdervi visto che gli acquisti comunque li fareste in più è accumulabile anche con le classiche carte crypto tipo quella di crypto.com o quella di Binance quindi è un di più al quale secondo me conviene partecipare chiaramente chiaramente vi lascio il mio il mio ref sia qui in chat live che su youtube ma per quale motivo perché sono curioso di sapere chi non conosce già BitCashback ma sono curioso anch'io però io ve lo lascio perché con questo avete in realtà il 30% di cashback in più per i primi 31 giorni quindi è poco più di un mese e insomma magari penso che possa farvi molto molto comodo comunque magari ci riaggiorneremo anche su qualche altro social detto questo ragazzi io veramente vi ringrazio per essere stati qua con me fino ad ora come vi anticipavo prima noi ci vediamo in live giovedì poi ci ritroveremo venerdì in realtà in live con un famoso exchange sono molto molto curioso perché le domande che mi avete fatto spaccano veramente quindi spero che anche lì sarete numerosi detto questo io ragazzi vi ringrazio e ci vediamo sicuramente giovedì in live ma anche domani con un video ciao a tutti ragazzi e buona serata grazie a tutti